Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e questo è GNAM, il video notiziario delle news sulla narrazione. GNAM, in cui la G non vuol dire nulla e anche il resto vuol dire ben poco, ovvero narrazione agglutinata multimediale. Glutinare, incollare, attaccare, saldare, fondere insieme. Riunioni in una sola unità di due o più elementi distinti. In questo numero di GNAM, che è il numero marrone, 5 perle da non dare ai porci in grafica GDB, grafica diversamente bella. Un'infografica, un'applicazione, un sito, una risorsa e un articolo. L'infografica è il diamante della scrittura, realizzata da Silvia Pognante. Si tratta di uno schema grafico che rappresenta le varie fasi di realizzazione di una storia. Una storia che può poi essere creata in formato video, in formato testuale, con uso di immagini, con una presentazione. Abbiamo dei suggerimenti per gli incipit. Partire da una domanda, da una curiosità o da un pensiero. I dettagli, la necessità di sviluppare una tensione che garantisca la dinamica della storia. E soprattutto l'emozione. Inoltre si conclude la storia con il botto, dove tutto si fa chiaro e anche qui dei suggerimenti su come chiudere la storia. Può essere utile appunto per qualsiasi attività di creazione o anche interpretazione di una storia. Storyjumper, un'applicazione per realizzare storie. Si tratta di un ambiente social e collaborativo per la narrazione, che potete raggiungere cliccando su questo link, in quest'altro link, un video tutorial di soli 23 minuti in italiano, che ho realizzato io. Si possono creare storie multimediali, unendo immagini, testo, suoni, voce e musica. Ci sono migliaia di immagini disponibili e semplici da usare. Inseriamo un personaggio. Se non ci va il personaggio che abbiamo scelto, possiamo anche sceglierne un altro. Per esempio, animali, abbiamo a disposizione tantissimi animali da inserire. Ecco il nostro pesciolino che va a riempire la nostra storia. E possiamo ora inserirlo. Inoltre, possiamo inserire scenari, sempre con lo stesso sistema del drag and drop. E così via. Possiamo anche aggiungere la nostra voce, cliccando qui e registrando, mentre parliamo. Oh, ma che bel pesciolino! Ecco qua, possiamo aggiungere anche musica, suoni o effetti. Li possiamo scegliere, applausi. E salvare. E in questo modo avremo aggiunto una voce alla nostra storia. Naturalmente possiamo aggiungere anche testo e scrivere quello che vogliamo. E ridimensionare il testo, riposizionarlo e così via. Bene. Il risultato finale sarà un e-book sfogliabile, ascoltabile, cliccando qui, con la storia che abbiamo creato. Questo è un esempio. Il limite è tutto free, ma il libro rimane estremamente piccino. Possiamo soltanto vederlo in questa dimensione. Nel video tutorial, tutti i particolari per utilizzare questo interessante programma, adatto soprattutto ai più piccoli. La risorsa che vi propongo è una risorsa di Cursiro, le guide per lo studio della letteratura. Registrandoci, possiamo entrare in questo indirizzo indicato nel link. E abbiamo a disposizione centinaia e centinaia di opere della letteratura mondiale, Alice nel Paese delle Meraviglie. Vedete che, essendo registrato, io posso accedere, ho qui l'infografica, e posso usare l'infografica per raccontare Alice nel Paese della Meraviglia. Posso preparare una lezione con questa infografica, posso fornirla agli studenti, ovviamente è in inglese. Posso anche scaricarla cliccando qui. L'infografica verrà scaricata e l'avrò a disposizione nel mio computer. Oltre all'infografica abbiamo l'analisi del contesto, dei personaggi, la sintesi del plot, i vari capitoli. Vedete qui tutti i personaggi. Possiamo anche scaricare questo schema in modo da salvarlo con un file PDF nel nostro computer. Tutto sempre rigorosamente in inglese. Possiamo cercare tra centinaia di titoli, o per titolo o per autore. Abbiamo a disposizione veramente tantissime infografiche. Molto utile per prendere ispirazione e per affrontare i più bei racconti della narrativa mondiale. Un sito, il sito di Roberto Sconocchini, maestro Roberto. Un sito ricco di risorse che si può consultare utilizzando i vari indici che mette a disposizione. Un indice delle risorse, sicurezza, tutorial, strumenti, creatività, se ci interessa appunto lo storytelling, digital storytelling. Cliccando su digital storytelling andiamo a tutti gli articoli e le segnalazioni di risorse sullo storytelling. Ma poi abbiamo viaggi, video, opinioni, sitografia, feste, materiali, scritto sempre con un linguaggio molto chiaro, molto essenziale, senza perdersi in chiacchiere. E con delle indicazioni, anche operative, oppure con dei rimandi a dei video tutorial o a delle video presentazioni delle risorse che vengono segnalate. Un sito veramente utile se si vuole rimanere aggiornati. Un blog che viene quotidianamente aggiornato con nuove segnalazioni. E infine la quinta perla è un articolo, un articolo di Fabrizio Pellegrini, sull'intelligenza emotiva, da Gardner a Goleman, l'autore dell'intelligenza emotiva. Una premessa è dei capitoletti che cercano di ricostruire il percorso a livello teorico degli studi sull'emotività. La mente emotiva, l'intelligenza emotiva, si è gradualmente, a partire da Gardner, conquistata uno spazio autonomo. E sono stati sviluppati studi su quella che Gardner chiama l'intelligenza intrapersonale e Goleman la competenza personale, o l'intelligenza interpersonale, e quindi una competenza di tipo socio-relazionale. Per quanto riguarda la competenza personale, una educazione alle emozioni e allo sviluppo, alla padronanza della mente emotiva, ha a che fare con la consapevolezza di sé, con la padronanza di sé e con la motivazione. Mentre per quanto riguarda le implicazioni emotive della competenza socio-relazionale, di quest'altra faccia della medaglia della mente emotiva, fondamentali sono l'empatia e le abilità socio-relazionali. Vengono poi prese in esame quelle che sono le categorie, al sistema categoriale, con cui i bambini classificano, giudicano e valutano ogni attività, bello, buono, facile, brutto, cattivo e difficile, e le implicazioni che questo comporta dal punto di vista formativo per l'insegnante. E vengono esaminate anche quelle che sono le emozioni elementari, innate, paura, collera, amore, e come la queste si sviluppano le emozioni secondarie e ancora una volta quali conseguenze questo ha sul piano educativo. Molto interessante anche la bibliografia che viene fornita. Questo articolo ha il merito di porre l'attenzione su un elemento spesso trascurato, quello appunto dell'intelligenza emotiva, e fornisce delle indicazioni per approfondire questo tipo di approccio all'insegnamento e all'apprendimento. Qui si conclude il numero marrone di Gnam. Vi do appuntamento ad altri colori, ad altre storie. Grazie a tutti.